Ciao a tutti youtube sono Volta e benvenuti a questo secondo video della settimana Pensavate che forse entro questa macchina di lego invece no non ci sono perché è una macchina di lego E io non sono un lego Volevo fare questo video di lego che non usciva da molto tempo E per farlo volevo far vedere questa macchina Sì vabbè ma se anche non la distruggo scusate Che la rimetto un attimo a posto Stavo dicendo questa macchina l'ho chiesta per Natale Ed è una mini cooper d'epoca ed è di lego E pur la targa è la targa Può essere che si veda male il video di soluzione Ma perché sono in una stanza chiusa con la luce del lampadario E quindi questa è più o meno la macchina È molto bella è molto realistica Qua le ruote questa è la maniglia ma non sono le cose principali E una delle cose più belle è il motore Aspettate che metto fuoco ecco Questo motore non funziona Aspettate che Vado a prendere Mi metto più alla luce ecco Questo è il motore ed è realistico come Come nessun'altra cosa al mondo È realistichissimo E proprio bello Non so cosa sia perché non conosco le macchine E poi si chiude Questi sono i fanali, le ruote E dentro troviamo Troviamo il tetto perché è decapottabile Troviamo La Si posso anche non distruggere il vetro Sono proprio così disagiato che distruggo tutto quello che tocco Comunque pericendo Questo è il volante Si gira Però non si riesce ad alzare Quindi va a finire contro le gambe E qua dietro se si vede c'è la radio Aspettate che Stiamo meglio Questa è la radio Proprio lì dietro si vede poco E non riesco a farvelo vedere molto bene Ecco ecco Quei cerchi lì sono quelli della velocità E qua in mezzo c'è la radio Con la griglia lì nera Questa è la marcia E che si muove anche E appunto è fatto molto bene E lì boh non so C'è una roba così Non so Poi I sedili si possono abbassare Poi già adesso si può anche adesso abbassare a sua volta Ma non ce ne frega molto La parte importante è dietro È una figata pazzesca C'è una tovaglia Guardate E poi c'è un robo Questo Che c'è dentro dei bicchieri E del pane e formaggio E poi la bottiglia Questa La bottiglia di acqua Quindi il sistema più o meno è questo Questo bagagliaio E qua sotto Se prendiamo questo punto qua Questa roba qua Si alza E c'è la ruota di ricambio Che adesso mi va di tirarla fuori E Penso di avervi detto tutto Questo video può durare poco Però che mi andava di fare un video E non avevo idee E vorrei dire un'ultima cosa Io sono un fan Delle illuminate Penso che quasi tutti la Penso che quasi tutti la conoscete Non sapevo come pronunciare questa frase E Volevo fare delle fanarts Cioè volevo fare dei loro ritratti E poi li metto tutti insieme E poi faccio una raccolta E metto sul canale E Non so Quindi questo video può finire qui Mettete like Se vi è piaciuto Non vi è piaciuto questo video Scrivete nei commenti Se volete altri video del genere Se vi piace questa idea delle fanarts E al prossimo video Intanto ricompongo la macchina Scrivete nei commenti